De Sade, la filosofia nel boudoir, ai libertini, voluttuosi di ogni età e di ogni sesso, a voi soltanto offro questa mia opera. Nutritevi dei suoi principi, favoriscono le vostre passioni. E queste passioni, di cui certi moralisti freddi e smorti vi incutono il terrore, sono gli unici mezzi di cui la natura si serve per far compiere all'uomo i propri disegni. Date ascolto soltanto a queste passioni deliziose, solo la loro voce deve guidarvi alla felicità. Donne rubriche, la voluttuosa Saint-Ange vi sia di modello. Disprezzate, sul suo esempio, quanto contrasta con le leggi divine del piacere che l'hanno posseduta per tutta la sua vita. Fanciulle troppo a lungo trattenute dagli assurdi e pericolosi vincoli di una virtù illusoria e di una religione disgustosa. Imitate l'ardente Eugenie, distruggete, calpestate con la sua stessa rapidità tutti i ridicoli precetti inculcati da genitori imbecilli. E voi, cari dissoluti, voi che fin dalla vostra giovinezza non avete più altri freni se non i vostri desideri, e altre leggi se non i vostri capricci vi sia ad esempio il cinico Dolmanzè. Spingetevi lontano quanto lui, se come lui, volete percorrere tutte le strade in fiore che la lubricità prepara per voi. Convincetevi alla sua scuola che solo estendendo la sfera dei suoi gusti e delle sue fantasie, solo sacrificando tutto alla volutà, quell'essere infelice che è conosciuto sotto il nome di uomo e gettato suo malgrado in questo triste universo, può riuscire a cospargere di qualche rosa le spine della vita.